L'eterna ricerca dell'uomo ha portato alla scoperta del fuoco ed è il fuoco quello che l'uomo cerca in continuazione, il fuoco, il fascino del fuoco. Anche noi siamo alla ricerca del fuoco e avendo trovato questo oggetto ieri la nostra intenzione è quella di ottenere del fuoco. Quindi accendere semplicemente questo Roadstar. Ok, TV, OFF, FM e AM. Lo accendiamo su TV, banda, VL, wow, interessante, va bene, VHF, UHF, andiamo su UHF. Bene, proviamo questo oggetto e vediamo se riusciamo finalmente ad avere soddisfazione. Ora io qua spengo la ciabatta, inserisco questo e mi allontano, mi allontano per vedere l'effetto che fa. Attenzione, non vedo fuoco ma vedo immagini. Siamo sempre sfortunati nella nostra ricerca del fuoco. Interessante, wow, fantastico, questo oggetto funziona. non so per quanto, ma funziona. Vedremo dopo com'è fatto dentro. No, 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 no. No, 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 no. ma che cazzo è non si è spenta la telecamera va a fare